Bene, due parole di presentazione per il Summit internazionale che si terrà qui ad Abano Terme il 4 e il 5 aprile prossimo. Si tratta della seconda edizione di un evento che ha riscontrato già un ottimo successo l'anno scorso a giugno e che abbiamo quindi deciso di riproporre visto appunto anche le richieste che sono giunte da parte di molti professionisti. In sostanza verranno presentati una serie di paesi esteri tra cui la Russia, gli Emirati Arabi, il Sudafrica, Monte Carlo, la Polonia, la Svizzera, l'Austria, l'Alto Adige che non è un paese estero ma che prevede varie forme nuove di incentivi anche per i giovani e San Marino che proprio recentemente è uscito dalla blacklist che vuole proporsi come un terreno fertile per gli investimenti stranieri. Questi paesi verranno illustrati non da professionisti italiani che se li sono studiati così nelle piccole brochure ma da professionisti che operano direttamente in quei paesi che hanno quindi un'esperienza concreta. Le due giornate saranno poi corredate anche dalla mia presenza che avrà lo scopo di fungere un po' da moderatore tra i vari relatori e io chiuserò anche i vari interventi in modo da analizzare il paese estero non solo dal punto di vista del consulente locale ma anche dal punto di vista della disciplina italiana quindi le cautele di tipo fiscale che un soggetto italiano deve adottare per investire laggiù avrò anche una mia relazione dove approccieremo anche il tema del rimpatrio dei dividendi e dei flussi in ambito internazionale e ci sarà anche un intervento dell'amico Eugenio Benettazzo che farà il punto sulla situazione attuale della crisi e sulle prospettive future. Quindi vi aspetto tutti il 4 e il 5 aprile ad Abano Terne.